salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giu ragazzi quello che sta succedendo oggi in questa domenica in questa domenica di maggio e ragazzi l'apoteosi la vittoria per chiunque da un anno a questa parte ha creduto a ciò che in questo canale veniva raccontato per chiunque di voi abbia creduto in questo canale per chiunque di voi abbia sostenuto questo canale perché ragazzi è un anno un anno che si racconta di un racconto mediatico falso e fallace è un anno che si racconta di istituzioni del calcio volte a far vincere una determinata squadra per salvare un brand che era insalvabile ragazzi che stava naufragando ed oggi ragazzi è la nostra vittoria ci mettiamo in riva al fiume seduti con le braccia concerte e osserviamo il cadavere del nostro nemico che ci passa davanti che parliamo insieme in questo video ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto perché è doveroso ragazzi oggi è il giorno del tripudio e il like lo meritiamo l'iscrizione al canale perché è gratis se non l'hai ancora fatto siete in tanti a guardare i miei video senza essere iscritti ragazzi se voi volete sostenere le accuse di questo canale la protesta di questo canale dovete iscrivervi perché dobbiamo essere in tanti per contare sempre di più inoltre azionate le campanelle delle notifiche e non vi perderete nessuno dei contenuti che andrò a proporre su questo canale eh ragazzuoli ragazzuoli nella giornata di ieri sabato 18 c'è stato davvero la svolta la svolta epocale perché ragazzi ciò che io mi stavo raccontando da giorni erano giorni ragazzi forse mesi che vi dicevo il racconto dei media non regge le cazzate della gazzetta vengono meno anche loro fanno fatica a crederci anche loro non ci credono più stanno tentando di convincere il popolino che va tutto bene vedrete che a un certo punto verrà detto che Oc3 è il brutto cattivone che ha distrutto i sogni della tifoseria più bella del mondo che la cui proprietà ha fatto di tutto per risolvere i problemi ragazzi ed è esattamente quello che è successo nella lettera di Zhang ai tifosi dell'Inter una lettera ragazzi che è praticamente un manifesto del fallimento totale una lettera in cui si parla di accordi amichevoli che Oc3 non avrebbe voluto rispettare forte di un contratto ragazzi ma di cosa cazzo stiamo parlando uno che ha determinati livelli di altissima finanza mi viene a parlare che nel giorno in cui tu dopo tre anni di un prestito ti presenti e sei insolvente alla data di scadenza del prestito sarebbe il creditore che legittimamente è forte di un contratto forte di un accordo forte di tutto quello che scritta manent ragazzi pretende da contratto quindi il creditore sarebbe cattivo perché pretende che tu alla data prefissata dovresti pagare la cifra prefissata mentre tu saresti il buono perché pur non pagando pur non pagando hai fatto di tutto per il bene del club e il tutto quale sarebbe cercare di inculare il prossimo cercare di fare nuovi debiti cercare di rendere una società non bancabile e di venderla insieme ai vigliacchi ai vigliacchi perché così li devo chiamare dell'informazione italiana gente come Stoppini alla gazzetta dello sport che ci ha raccontato cazzate fino all'altro ieri ragazzi cazzate assurde figo all'altro giorno quando era chiaro evidente e solare che questa società andava in un'unica direzione e quella direzione era il fallimento adesso questa società verrà rilevata dal fondo Octree che probabilmente tenterà o di smantellarla o di venderla due sono le cose Octree tenderà di recuperare il suo capitale o smantellandola quindi vendendo i prezzi pregiati e mettendosi in tasca tutto ciò che può mettersi per poi venderla con comodo o venderla subito perché ha già un acquirente per le mani sono due le strade la terza ragazzi non c'è chi vi racconta una terza strada vi racconta delle favole vi racconta una realtà che non può essere quella del 2024 in cui dove il pragmatismo a livello economico ragazzi è una cosa dannatamente importante dove chi vi parla di chiacchiere e di verba volant vuol dire che ragazzi quando va a scontrarsi con lo scritta che man c'è ragazzi nero su bianco Octree ha ragione come si fa a dire che Octree è brutto e cattivo sei tu che non hai assunto quegli impegni finanziari ragazzi e addirittura ragazzi lo dice un fazioso che di cui vorrei sapere tanto il parere su Montero alleatore della Juventus come Ziliane poi un anti juventino lui lui non è a differenza del suo compare con cui è scritto il libro a quattro zampe interista lui probabilmente è tifoso del Napoli o comunque del Cervia che sarebbe la squadra perfetta per lui detto questo anche lui dice le stesse cose che vi ho detto io ragazzi non puoi prenderla con Octree dicendo che Octree è brutto e cattivo per una volta devo essere ragazzi l'Inter fa talmente schifo che riesce a mettermi per una volta d'accordo col giornalista della schiena dritta che vive in Portogallo per non pagare le tasse anche detto Ziliane e ragazzi è la verità però questa volta sono d'accordo con lui perché dice una cosa sacrosanta una cosa che è un principio basilare dell'economia se tu alla data prefissata non paghi non può essere additato il creditore come cattivo e ragazzi del resto il fallimento di tutta la situazione il precipitare della situazione sono le parole di Marotte che dice una giornata terribile a livello finanziario è la verità è una giornata quella di ieri terribile a livello finanziario per l'Inter a cui loro erano molto preparati a cui non avevano preparato i tifosi che vengono ancora qui a rompere i maroni a dire fati affari tuoi e così eccoli ragazzi io vi sto raccontando la verità più dei pagliacci che vestono le maglie con il vostro colore che vi hanno raccontato delle cazzate vi raccontano di quanto siete forti di quanto siete belli di quando il mondo trema davanti al nero azzurro quella stella è di cartone puzza di cartone a un chilometro ve l'hanno fatta vincere per cercare di salvare la situazione perché la normalità per voi è il fallimento la vittoria è qualcosa di incredibile in realtà è credibile solo se sai che c'hai le istituzioni dalla parte tua gravina dalla parte tua gli arbitri dalla parte tua e lo sbrocco ragazzi di allegri in finale di coppa italia sarebbe dovuto essere anche per voi anche per voi un monito di quello che sarebbe successo invece no fino all'ultimo avrete voluto fare i tipi con la schiena che capite tutto che voi sapete tutto adesso ragazzi io sto qui in riva questo fiume con la mia bella maglia bianco nera con tre stelle sul petto tre stelle vedete contate contate bene tre stelle sul petto tutto è dorato nessuna di nessuna di queste stelle di cartone nessuna è messa in dubbio a guardare voi che fallite miseramente dopo tante chiacchiere tante parole tante sciocchezze perché la verità è che tutti sapevano che questo sarebbe stato un fallimento annunciato e l'inter una società non bancabile definita tale tale da un fondo con una potenza economica ragazzi illimitata non quantificabile come il fondo pif ha deciso di non investire su di voi ma chi cazzo poteva investire su di voi ma voi ve la volete prendere con il con il scusatemi californiano o pinco ve la volete prendere con oktri ragazzi ma smettiamo la colpa è del cinese è lui che è insolvente è lui che non paga è lui che vi ha preso per il culo e ve l'ha messo in quel posto massima condivisione di questo video ragazzi perché la testimonianza della nostra vittoria deve essere portata a tutti i livelli e soprattutto ragazzi e soprattutto condivisione di questo video e commento il vostro commento che è sempre fondamentale è sempre il sale di questo canale ed è sempre uno spunto per il sottoscritto per la creazione di nuovi contenuti e ragazzi non posso fare altro che ringraziarvi se in un giorno di festa come questa domenica 19 decidete di guardare questo video e arrivate fino a questo punto e quindi fino alla fine contro tutte e tutte sempre comunque forza juventus e intermerda falliti sempre comunque più che mai di cartone non bancabili